L'obiettivo in questa città non è lo stanzone, l'obiettivo in questa città è una dimora per coloro i quali hanno deciso di stare ad Arezzo. Per chi passa ed è freddo, un momento di accoglienza e poi ovviamente tornerà o andrà dove vuole. Dimori invernali per senza tetto e dormitori aperto sin da novembre per chi si trova in condizioni di emergenza. Queste le risposte date dall'amministrazione comunale e dalla Caritas all'emergenza del periodo invernale, garantendo così una notte al riparo a coloro che vivono per strada ma non solo. La vera novità è che questa città in questo anno ha misurato di aver raggiunto un fattore di civiltà altissimo, non c'è nessun cittadino residente nella città di Arezzo che sia fuori dall'accoglienza. Quindi a questo punto ci possiamo dedicare ai non residenti che abbiamo diviso in due categorie, i non residenti che però hanno un rapporto con la città di Arezzo molto importante, decennale, qualche volta anche ventennale, e per loro sarà attivata la dimora invernale che è una formula infinitamente più civile, infinitamente più attraente da un punto di vista culturale e anche di reinserimento della stanza che noi offriamo perché dal freddo si possa essere protetti. Quindi il dormitorio c'è, rimane, ma rimane in una formula, diciamo così, residuale ed è rivolta a coloro i quali passano ad Arezzo e quindi magari si trovano fuori per una notte invernale, e allora è bene che nessuno stia fuori durante l'inverno, avranno un pass di massimo 15 giorni che può essere solo in casi particolari rinnovato e che verrà comunque comunicato alla questura nella poi necessità di reinserire in quel contesto di provenienza la persona che casualmente è ad Arezzo. Chi invece con questa città ha stabilito un rapporto di continuità, noi intendiamo renderlo vero cittadino. Il dormitorio di Piazza San Domenico rispetto al passato quindi sarà attivo per un periodo più lungo, dal 18 novembre 2019 al 4 aprile 2020. Otto invece posti disponibili nelle dimore invernali, con servizi di screening medico, regolamento interno e un percorso di recupero della socialità. È un progetto non soltanto di dargli una notte calda nel periodo del freddo, che è già importante, ma ad avere una situazione di rapporti anche con i volontari, anche con chi fa servizio, per sentirsi nuovamente persone con la loro dignità. Il Comune ha infine dato avvio ad una collaborazione con Arezzo Casa per individuare locali destinati all'accoglienza per tutto l'anno.